Praia e Mare, città di Castello, unita nel segno della palla a volo. In queste ore, infatti, le due società sportive, Spesprea Volley 30, promossa in Serie C, e Alto Tevere, città di Castello, tornata quest'anno in A1, hanno annunciato che per i campionati 2013-2014 metteranno in atto un gemellaggio tra le due realtà. Un'idea nata all'inizio della scorsa stagione agonistica da parte del presidente praiese Fabio Macri e subito accolta da Arvero Hoan, amministratore della società Umbra, per una collaborazione che vuole collegare due poli così lontani, ma al tempo stesso così vicini per storia e cultura pallavolistica. Collante tra le due realtà, il praiese Davide Marra, libero della copra Elior Piacenza, che però ha partecipato alla promozione in Serie A2 di città di Castello nel campionato 2007-2008. Il gemellaggio è comunque un apparentamento e quindi sono due nomi di due società che si affiancano e nessuno vuole collare dei rischi. Se la volle di spesso Praia è accettata da questa società è perché ce lo meritiamo, perché siamo gente seria. È un gemellaggio che ci rende orgogliosi perché ho sempre ispirato, venendo a Praia, area di grande entusiasmo nei confronti di questa disciplina. Loro credono nell'aspetto sociale di questo sport e vogliono regalare un sogno ai ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di impegnarsi nel realizzare qualche cosa e sogni che poi possono diventare anche realtà perché abbiamo visto un campione del posto, Davide Marra, che è riuscito ad arrivare fino ai vertici più altri da pallavolo indossando la maia azzurra e giocando a punti mondiali. Anch'io sono stato un ragazzino, anch'io pensavo, guardando Papi, di diventare come lui, quindi è bene che i ragazzi abbiano la possibilità di fare questo grande e bello sport. La collaborazione a 360 gradi punta principalmente ad effettuare scambi tra le due società per offrire ai giovani di Praia la possibilità di assistere a partite e allenamenti all'interno di stage mirati e agli atleti di città di Castello un modo per fare esperienza anche su altri campi. Abbiamo scelto l'autostrada, ce la siamo meritati, l'abbiamo conquistata, non è qualcosa che è arrivato così dal nulla, è la serietà di questi 30 anni e la qualità è soprattutto il cuore della nostra società. Con noi, insieme a noi, sempre il nome del nostro paese, Praia Amare, quindi loro saranno sempre comunque i nostri benvenuti e perché no, andremo anche noi a visitare la loro bella cittadina e probabilmente a assistere a qualche partita. Quando ci sarà l'occasione di vedere Piacenza contro Città di Castello avremo qualche difficoltà per un conflitto di interessi legato alle due tifosierie, forza Praia Amare intanto, che è importante.